Piano piano veniamo qua vicino alla rendita, piano 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 qua vicino, ok, ora vediamo, adesso voi due signori, giù, pensi che sia facile? Noi ti accompagnano, a salire è stato facile, noi ti accompagnano, ma si mette in piedi lì? Piano piano, guarda la sto appoggiando gradino per gradino sulle mie spalle, vai, vai, sulle mani sotto la tengo in equilibrio, perfetto, perfetto, perfetto. Grazie a tutti.